salve a tutti friends dal vostro supercorris si torna in moto gp20 ragà gioco spettacolare ma la cosa bella e divertente friends che siamo al Mugello in casa quindi piove tutte le prove e bagnate guardate l'iper fluidità del gioco su ps5 pole position in casa per supercorris oh friends non ho registrato il giro ma vi posso assicurare ho fatto un giro pazzesco abbiamo trovato un bel assetto fatto bene quindi le prospettive sono buonissime ragà dobbiamo fare una bella gara dobbiamo vincere spero di farcela allora vi dico subito friends vi ringrazio enormemente perché oggi sono arrivati i primi acquisti da parte vostra su instant gaming con i link di supercorris grazie in descrizione trovate il link di supercorris per comprare col 70% di sconto su instant gaming ragà vi ringrazio perché su amazon canale telegram supercorris offerte amazon ogni giorno vi scrivete in 5 6 7 8 perciò grande grande crescita anche su youtube grazie mille continuate a mettere like a seguirmi sui miei social a iscrivervi ai canali e continuare a crescere insieme allora vi faccio vedere subito l'assetto sospensioni assetto preso come al solito a youtube ma questa volta a primo colpo sono riuscito a trovare questo assetto che va benissimo friends va bene 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 sono stra contento la benzina lasciamo così perché tanto non abbiamo bisogno a parte sul rettilino principale di mettere la grassa allora sì sì mettiamo due gomme morbide da pioggia però era che dire dai sono ottime prospettive per questa gara partiamo andiamoci a divertire col vostro supercorris partiamo si parte friends gara la tostissima ma dopo le yamaka davanti c'è solo mir con la suzuki che partenzola che riesce a supercorris ahhh deve girare però ahhh si toccano tutti la gara si riesce a girare splendida la grafica raga ho potuto vedere anche una pre recensione su oh sul 21 e dicono che è pazzesco friends molto bello sarà preparatevi a vederlo fra un mese sulla mia ps5 super ultra prende qualche metodo di vantaggio supercorris che vuole fuggire c'è solo morbido dietro che lo prende lo tiene fuoco di supercorris con morbidella e vignales dietro al rimorchio ah largo 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 si incapretta la moto di super però rimedia dai cordolo pieno qua dai che la moto si muove ma qua li sto cercando di tenere si getta sul rettilino supercorris metto un po' di grassa anche se sto vedendo la miscela calare preoccupatamente preoccuposamente proverdini in italiano scappa super ahhh un po' largo eh molto largo morbido non ce la fa non ce la fa morbido ahhh lungo ancora aia eh sta raventando corris ha perso un po' il ritmo ahhh si inizia anche a muovere un po' troppo la nostra Yamaha cerca di resistere corris tornando sui suoi ritmi raga nelle prove ho fatto apposta dei long run con benzina per vedere com'era il comportamento della moto corris dentro il problema è che mi sto trovando un po' in difficoltà in questo momento il gnaro è il secondo torna la battaglia tra i due Yamaha ufficiali raga corris pro a chiudere le traiettorie bellissima anche la vibrazione del nostro dual sense raga ahhh cerca di prendere qualche metodo di vantaggio supercorris non ce la fa in questo momento esce strettissimo mappa a due prende qualche metodo di vantaggio giro veloce di super staccatona 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 da San Donato ahhh lungo lungo perde un po' di colpi supercorris strano va bene framerate fantastico fluidità incredibile su PS5 raga ci crede super ci crede super ci crede super largo qui in casa vuole portarsi a casa questa vittoria epica ma dietro a 4 Yamaha è il campione del Mondomir reale non nel gioco siamo noi che non gli voglio dare questa soddisfazione non riesce corris a prendere vantaggio sono tutti in là ecco qui Vignales il più arrabbiato no cazzo prende la penalità di due decimi supercorris male molto male aiaiai raga aiaiai sono entrato troppo dentro sul cordolo cucito qua su Mark Horris spala anche il gas e adesso dobbiamo guardare anche i tempi perchè friends non ci possiamo permettere di avere Vignales a meno di 3 decimi com'è il giro veloce? io l'ho fatto il giro veloce coglianazzi ah non me l'hanno dato a me perchè ho preso la penalità se no abbiamo fatto due decimi meglio di Maverick che lo vediamo dietro le prese con la Petronas MotoGP ragazzi ci seguiremo in diretta perchè ho Dazon finalmente quindi chi vorrà essere allietato dal vostro supercorris magari ci improvvisiamo pure a fare delle telecronache alla guidomeda prova a scappare supercorris prova a prendere qualche metro di vantaggio ma il mio secondo nome è svantaggio è entrata a scappo in alcuni punti in altri arriva questo qua dietro e ci riprende prova a fare delle curve impervie Corris oltre metà gara non lo so se ne ho impressione ma la moto mi sembra molto più arriva Vignares se ne fa andare solo a Corris altri due giri di passione Maverick dietro molto vicino DualSense al top Corris risparmia anche la miscela per degli attacchi finali Staccato Ottima qui la frenata di supercorris Venga adesso con la moto più scarica provo a fare un giro stile qualifica per allontanarsi un po' da questi dietro Troppo vicino ancora la fuga solitaria di super in casa eh gli sta riuscire un giro a supercorris pazzesco ora no qua faremo il giro veloce se non sbagliamo ma di brutto pure a largo esce forte super madonna che sto a fare no questo è un super giro veloce e infatti guadagno un'enormità supercorris guadagno un secondo sfrutta la grassa qui ottimo giro eh gira veloce fantasmatorico aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Orbitelli secondo Due italiani ai primi due posti qui in Italia Ma Corris non vuole perdere la sua prima position Dai che ce lo può fare Corris, recupera due decimi morbido Ma Corris c'è E' un po' ingestato qua raga però Esce bene Esce bene Ottimo Perde qualcosa ma ormai il rettilineo è lì Grande raga Supremacy 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 per Super Corris Ed eccoci qua finalmente raga andiamo a vedere la classifica Buono 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 3 Yamaka sul podio Morbido dietro Andiamo a vedere raga mi sarà staccato il microfono Penso ne siete accorti Comunque 17 punti su Morbidelli 34 su Marquez Davvero ottima La situazione in classifica Poi Vignales è già a 38 Quindi Si delinea bene per noi Andiamo a vedere pure tra i team Ormai ce ne siamo andati raga Poi nei costruttori Enorme la Yamaka Enorme Super Corris Guardiamoci il podio Eccoci qua Si festeggia pure sul podio Grandissima gara in casa Eh raga E l'abbiamo mollata qua Questo ci rilancia in maniera molto importante per la classifica Siamo primi Possiamo cercare di fare una bella fuga Vediamo adesso cosa succede dietro Perché sembra un campionato Monomarca Yamaka Marquez sta cercando di tenere Ma la vede dura Molto dura Quindi raga Vedremo Vedremo Spero vi sia piaciuta questa prima gara In 1080 60 fps Finalmente ho trovato questo programma molto liquido Il problema è che è molto complicato da usare Quindi sto cercando di migliorare Non fate caso a eventuali problemi di fatti di montaggio Perché Non possiamo fare altro raga Per farvi vedere i video così liquidi e fluidi Questa è l'unica soluzione Perciò raga Spero comunque Che vi sia piaciuta Vi do appuntamento ai prossimi video Del vostro mitico super course Ce la voglio Grazie mille per la visione Grazie mille per la visione